A fuoco i calanchi di città Sant'Angelo, l'incendio divampa ancora in località Colle di Sale nella campagna angolana. Vigili del fuoco e protezione civile sono a lavoro per domare le fiamme, impiegando anche l'aereo messo a disposizione dalla regione Abruzzo, che facendo avanti e indietro, tra il mare e il luogo dell'incendio, ha già effettuato diversi lanci sulle zone in fiamme. Il ruogo si è acceso questa notte e al momento non si sa perché, poiché l'incendio è divampato di notte e presumibilmente non c'entrano niente le temperature da bollino rosso di questi giorni. Nessuna pista è tuttora esclusa, nemmeno quella dolosa. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.